Allora, di chi volevate parlarmi? Qui le domande le facciamo noi, chiaro? D'accordo. Perché hai insegnato a Charlie quella brutta parola? Quale brutta parola? Non fare il furbo con me! Senti, puoi parlare con le buone o con le cattive? Sceglite a pista... Oh, 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 tesoro, tesoro, perché non ti prendi una pausa? Vai di là un minuto. Fammi parlare col ragazzo. Accidenti, tua madre è proprio fuori di sé, eh, amico? Lo sai, Gabe, commettiamo degli errori a volte, ma la cosa importante è dire la verità. E tu vuoi dire la verità al tuo vecchio, non è vero? Papà, dai, adesso smetti, la so che state facendo. Che vuoi dire? Tu sei il poliziotto buono e lei il cattivo. Tesoro, vieni, c'è a scoperti! Oh, ma no! E c'è un particolare che non avete considerato per insegnare a Charlie una brutta parola. Dovrei passare del tempo con lei. D'accordo, puoi andare. Charlie ha detto una brutta parola. E quale? Beh, tu dovresti saperlo. No, non lo so. Ma è terribile! Che cosa vuol dire? D'accordo, puoi andare. E visto che la nostra Charlie passa molto tempo in giardino, crediamo che possa aver sentito qualcosa provenire dalla sua abitazione. Di che cosa mi state accusando? Charlie ha detto una brutta parola e crediamo che l'abbia sentita da lei. Qual è la parola? Non era riferita a lei, questo è ovvio. Adesso sa come reagirei, mio caro Charlie. Grazie.